Milano è sempre più attrattiva e competitiva, meta per turismo, eventi sportivi, business e nodo nelle reti globali, ma allo stesso tempo il capologo Lombardo potrebbe fare di più su fattori come la qualità della vita e la svolta green. A fotografare la situazione è la seconda edizione di Your Next Milano, il rapporto di Assolombarda, quest'anno sul tema della ripartenza e del confronto internazionale, rapporto che ha evidenziato come la città abbia ormai imboccato la strada per superare la crisi e sia ora pronta a diventare uno snodo istituzionale e strategico per competere con i benchmark internazionali. Milano ha bisogno di continuare a camminare come ha fatto in questi primi mesi, come ha fatto soprattutto durante il 2021. Dal punto di vista poi dopo legislativo, noi ci aspettiamo che ci sia il completamento della legge del Rio per dare piena efficacia alla città metropolitana perché abbiamo bisogno di confini sempre più allargati per competere con i principali capitali europei, che sono il benchmark con cui Milano si confronta regolarmente. Il rapporto 2022 di Assolombarda si è così concentrato sulla fase di ripresa post-Covid, confrontando dieci grandi centri urbani internazionali, tra cui città come New York, Parigi e San Francisco. In tema di percezione, Milano è a livello globale in 27 dei 33 principali ranking, risultando così la ventunesima realtà più attenzionata delle 719 considerate. Pur comparendo in numerosi ranking, però, la città risulta mediamente al 98esimo posto e un chiaro punto di debolezza riguarda la voce, congestione e qualità della vita. Ma non solo, il rapporto stabilisce che Milano sia allo stesso tempo una meta turistica e per eventi sportivi. È infatti 14esima davanti ad Amsterdam e San Francisco, un place for business, 21esima infatti davanti a Monaco e Berlino, e un nodo nelle reti globali. Anche il livello di attrattività, ovvero la capacità del territorio di rispondere alla domanda e l'esigenza degli stakeholder è stato fotografato dal rapporto e le indicazioni che sono emerse sono anch'esse significative. Yournex Milano certifica inoltre che cresce la presenza di studenti dall'estero. Sono più di 15.000 i giovani universitari che frequentano gli otto Atenei della città metropolitana. Rappresentano infatti il 6,7% del totale degli studenti nell'anno accademico 2020-2021. Anche l'attrattività turistica torna a crescere. Nel 2021 infatti la città ha accolto 3,1 milioni di visitatori, un numero più elevato degli 1,9 milioni nel 2020, ma ancora notevolmente lontano dal record registrato nel 2019 di 8 milioni di turisti. Infine, per quanto riguarda la ripresa economica, Milano ne sta uscendo prima e meglio rispetto ad altri capitali. Dopo la recessione del 2020, nel 2021 si è verificato infatti un significativo balzo in avanti. Il PIL alla fine del 2022 è atteso superare il 2019 del più 2,2%, attestandosi poi nel 2023 a più 4,8% e si prevede che l'occupazione possa riallinearsi al dato pre-Covid nel 2022, registrando poi un più 2,3% nel 2023.